Allora la situazione è questa, io sono venuta per farvi vedere quello che accade, noi siamo in un impianto di trattamento rifiuti fuori Roma che dovrebbe accettare in base all'ordinanza dei Zingaretti, dovrebbe accettare i camion dell'AMA di Roma e la spazzatura di Roma, come vedete è sabato pomeriggio, i cancelli sono chiusi, l'impianto è fermo, quindi questa è la prova che questa ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro tutti i romani, noi dovevamo venire qui a scaricare i nostri rifiuti, i camion lavorano, gli operai AMA raccolgono ma continuano a non sapere dove buttare i rifiuti, questa è la verità, questo è quello che accade, al di là dei programmi abbiamo salvato Roma, finalmente possiamo scaricare, non è così, questa è la prova che ancora ad oggi i nostri operatori raccolgono, fanno i viaggi, arrivano fuori Roma, i cancelli sono chiusi.